Ciao, mi chiamo Roberto De Micarri, benvenuto o benvenuta, ben ritrovato o ben ritrovata nel mio studio vocale romano. Oggi vorrei parlarti di qualcosa di inedito e di bizzarro, di restringimento di carreggiata in autostrada. E facendolo non vorrei abbassare ulteriormente lo standard delle mie chiacchiere vocali, vorrei semplicemente guidarti in una breve riflessione partendo da una similitudine. Se ci pensi, il restringimento di carreggiata in autostrada serve ad evitarci il rischio di scontrarci contro un ostacolo durante la marcia. Cos'è che dovrebbe accadere durante questa fase? Dovrebbe esserci un leggero aggiustamento della direzione che ci permetta di poter effettuare il cambio di corsia. E l'altra cosa che dovrebbe accadere come conseguenza è che dovrebbero diminuire le corsie a nostra disposizione, considerando che non stiamo più transitando in un'area larga, ma in una un po' più stretta. Allo stesso modo per i cantanti, il passaggio di registro è quello strumento che ci permette di evitarci il rischio di forzare la voce nella zona medio-acuta della nostra estensione. E cos'è che dovrebbe accadere in questa fase? Dovrebbe esserci un leggerissimo aggiustamento fonetico della vocale che stiamo cantando, che non dovrebbe allargarsi, ma perlopiù arrotondarsi. E l'altra cosa che dovrebbe accadere è che dovrebbe diminuire la quantità di registro di petto a nostra disposizione, considerando che per poter produrre frequenze più acute le nostre corde vocali dovrebbero assottigliarsi. Se il funzionamento di questo processo è vero per tutte le voci, cioè tutti quanti abbiamo un passaggio di registro e più o meno il modo di affrontare lo stesso, quello che accade invece per le voci più pesanti, le voci un po' più gravi, un po' più grossi, un po' come la mia oggi che suona varitonale considerando il mal di gola, puoi pensare a queste voci come ai mezzi pesanti in autostrada. Così come i mezzi pesanti dovranno fare attenzione al restringimento di carreggiata, un po' in anticipo rispetto ai mezzi più leggeri, preparando le loro manovre di aggiustamento già quando leggeranno il cartello che li avvisa del restringimento di carreggiata, allo stesso modo le voci più pesanti dovranno preparare un po' in anticipo il passaggio di registro, così che anche loro possano affrontarlo senza alcun rischio e con successo. Risolvere il passaggio di registro, onestamente, è tutta una questione di gradualità della preparazione al fenomeno, non una questione di fortuna. Puoi pensare alla stessa gradualità con cui si passa dalla fase diurna alla fase notturna, è qualcosa che avviene in maniera graduale, lenta, non improvvisa, non brusca come per esempio attivando un tasto on-off in cui a un certo punto smette improvvisamente di essere giorno e comincia la notte. No, ma è la luce che si sfuma gradualmente nel buio. Ed è con la stessa gradualità con cui notiamo il fenomeno ma non ce ne accorgiamo propriamente, dovremmo passare dal registro di petto al registro di testa, sfumando l'uno nell'altro e l'altro nell'uno, così che i nostri ascoltatori non si accorgano di alcuna differenza, di alcun cambio acustico, dalle note gravi alle note più acute. Bene, spero di non averti annoiato troppo di essere stato anche solo poco d'aiuto così. Ricorda soltanto una cosa, molto importante, che la citazione che io adoro che dice impara le regole come un professionista così che tu possi infrangerli come fa un artista, non va al segundino in autostrada. Bene, un abbraccio, a presto, ciao ciao da Roberto Delicari. Grazie. Grazie. Grazie.